Il mondo del cinema generalmente si sta spostando ogni giorno verso un'unica possibilità, coproduzione. La strada che noi stiamo già cercando di seguire può essere un via interessante per poter poi insieme partecipare a varie opportunità che esistono in Europa come Euroimage, come Interreg IPA e anche Programma Media che danno un supporto a tutte iniziative che si sviluppano in cerca di coproduzioni e di collaborazioni. In questa occasione lo considero la selezione del film, una selezione giusta, di alta qualità. Una parte dei film sono veramente buoni, buoni dal punto di vista artistico e tecnico e altri sono comunicativi e sono interessanti per dare un messaggio a una massa sempre più maggiore di persone. Ho capito che certe storie erano fuori della mia portata, cioè non avevo la informazione giusta. Ho cominciato a capire qualcosa che mi mette in posizione poi a giudicare le storie degli altri e a giudicare anche la mia posizione, come cittadino ma anche come un artista critico. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.